Fra poco noi faremo la professione di fede. La professione di fede è una professione nella Trinità di Dio. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente. Poi diremo credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio. E poi diremo credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita. Io credo. Quando noi siamo stati battezzati abbiamo fatto la professione di fede, abbiamo detto la nostra fede, in quel Dio che si è manifestato a noi come Trinità di persone, uguali nella divinità, distinte come persone Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Padre manda il Figlio Gesù. Il Padre e il Figlio mandano lo Spirito Santo. Notate anche lo stesso articolo prima dello Spirito Santo. Significa che lo Spirito Santo è diverso dal Padre, è diverso dal Figlio. Ma tutto questo però è una diversità di persone ma hanno la stessa natura divina. Gesù aveva la sua persona divina. Ecco perché diciamo di Maria che è madre di Gesù in quanto persona divina, quindi la maternità ha una relazione con la persona, quindi è madre di Dio. Tutto questo naturalmente è un mistero. Dio si manifesta. Dio svela la sua esistenza. Noi con la nostra filosofia potremmo dire ben poco di Dio. Possiamo semplicemente dire che Dio esiste in quanto le cose stesse non si potrebbero spiegare senza un riferimento a questo assoluto creatore che ha dato esistenza alle cose. Sarebbe inspiegabile, diciamo, questa successione della storia se non c'è un punto iniziale che ha dato inizio. Sì, ha la vita. E Dio è il vivente. E tutto ciò che esiste, esiste proprio perché Dio ha partecipato alla sua vita. E noi non siamo delle semplici creature, ma siamo chiamati ad essere ad immagine di Dio, figli di Dio. In Gesù figlio di Dio, tutti noi figli di Dio. Ecco perché Dio noi lo chiamiamo padre. Gesù ci ha insegnato di rivolgerci a Dio come un padre, padre di tutti noi. Ma noi potremmo anche dire che Dio è madre di tutti noi. Dio è il compagno della nostra vita perché questo Dio ha scelto di farsi uno di noi, di mettere la sua tenda, che è segno di precarietà, in mezzo a noi. Questo Dio si è fatto precarietà con noi che siamo precari. Potremmo anche dire proprio con una iperbole, siccome noi siamo peccatori, Dio in qualche modo si è fatto peccato, assumendo il nostro peccato per essere uno di noi. Gesù sulla croce ha portato il nostro peccato. Lui si è fatto peccatore dei nostri peccati e lui ci ha dato in cambio la sua giustizia, lui che era Dio. Ci ha divinizzati, ci ha resi figli del Padre, in lui figlio del Padre, e quindi giusti in lui che era il giusto. E allora il nostro destino eterno è un destino di vivere in Dio che è amore. Se noi potessimo dare una definizione di Dio, potremmo dire la stessa definizione che ha dato Giovanni, Dio e amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio. E allora noi da figli di Dio possiamo vivere in Dio solamente se viviamo l'amore nella nostra vita. Un amore che diventa condivisione, che diventa vicinanza, che diventa perdono, che diventa accoglienza, che diventa eucarestia vivente. Quella eucarestia che noi stiamo per celebrare, Gesù si fa pane, si fa bevanda, e ci insegna, tu vuoi amare come io ho amato voi? Anche tu ti devi fare pane che si spezza e si dona. Anche tu ti devi fare bevanda per dissetare tutta quella sete che c'è nel mondo, sete di verità, di giustizia, di virtù, di santità. E allora mentre noi celebriamo la festa di Dio, in realtà di riflesso noi facciamo anche la festa dell'uomo. Perché l'uomo non si comprende senza Dio. E allora iniziamo la nostra giornata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Concludiamo la nostra giornata nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. E riceviamo la benedizione di Dio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se voi avete notato nella seconda lettura c'è un saluto da parte di Paolo in cui sono nominati le tre persone divine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio, di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Grazie, amore e comunione sono dei doni che Dio ci dà. Anche se noi attribuiamo la creazione al Padre, anche se noi attribuiamo la redenzione al Figlio, anche se noi attribuiamo la santificazione delle persone allo Spirito Santo, in realtà è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che creano, che redimono, che santificano. E la cosiddetta comunio idiomatum, così si dice in teologia, ossia tutto ciò che si applica a una persona divina si può e si deve applicare a tutte le altre tre persone, a tutte le altre persone divine. Voi ricordate l'episodio di Sant'Agostino che voleva svelare questo mistero con la sua filosofia e allora gli apparve un bambino che prendeva l'acqua del mare con un secchiello e la metteva in una buca. Cosa fai? Ecco, io voglio che tutto il mare sia riversato in questa buca. Ma non è possibile, e allora dice il bimbo proprio a nome di Dio, non è pure possibile che tu con la tua filosofia puoi scoprire il mistero di Dio. Ecco, il mistero di Dio è semplicemente da adorare, da contemplare, e direi da intuire nel nostro cuore. All'inizio ho detto che Dio è persona, anche noi siamo persone. Dio è famiglia, anche noi siamo famiglia. E allora non possiamo vivere da soli. Io ho bisogno di voi, voi avete bisogno di me, tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. Non possiamo salvarci singolarmente, io penso a me stesso, nel mio chiuso, no, 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 no. proprio perché siamo famiglia, insieme come famiglia, dobbiamo fare un cammino di purificazione, un cammino di santificazione, un cammino di salvezza nel Signore. vorrei terminare qui. L'ultima parolina la voglio dire, ecco, nell'Esodo abbiamo ascoltato Dio si è manifestato a Mosè e dice la parola di Dio, Dio proclamò il suo nome, passando dinanzi a Mosè disse il Signore il Signore Dio misericordioso e pietoso lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Sono parole che vengono attribuite a Dio, ecco, Dio si sta svelando, dice Dio io sono un Dio misericordioso e pietoso lento all'ira ricco di amore e di fedeltà. E così noi lo vogliamo invocare il Signore, non pensiamolo come col mitra che sempre ci vuole condannare appena noi abbiamo fatto un'inezia. Dio è un padre, Dio è una madre e un padre e una madre gioiscono semplicemente di abbracciare il proprio figlio anche quando magari fa il birichino e dice con lo suo sguardo, con tutta la sua calore figlio mio e questo gli basta a un papà o una mamma dire al figlio figlio mio. Ecco così noi ci dobbiamo vedere con gli occhi di Dio figlio mio. Grazie o Signore, grazie.